La mancata ricostruzione delle scuole all'Aquila con la richiesta di un consiglio comunale straordinario sulle scuole, oggetto di un ordine del giorno firmato da tutta l'opposizione che ha precise richieste, innanzitutto quella di fornire un quadro su tutte le scuole indicando risorse, localizzazione e tempi, poi l'istituzione di un assessorato alla scuola e al diritto allo studio, ancora un tavolo permanente con rappresentanti di comitati, dirigenti scolastici, insegnanti e alunni, passando per la promozione al termine di ogni anno scolastico degli stati generali per vedere criticità e dare risposte. A preoccupare l'opposizione sono le notizie emerse nel corso della recente quinta commissione, soprattutto per quel che riguarda il polo scolastico a Collemaggio. È stata ribadita una mancanza di visione sulla ricostruzione perché pensare di realizzare un polo scolastico a Collemaggio, un'area prima di tutto già vincolata, quindi un'area che dovrà eventualmente essere interessata da procedimenti di sblocco e poi un'area su cui si va ad edificare consumando ulteriore territorio e dovendo predisporre ex novo una struttura. E questo polo scolastico da dove esce, da quale programmazione, da quale idea di pianificazione? Un altro elemento critico è quello della scelta di non ricostruire scuole in centro storico. Per l'opposizione una scelta assolutamente sbagliata. Da una parte si chiedono e si danno indennizi ai commercianti in centro storico che pagano e scontano tantissime mancanze. Poi si dice che in centro storico non verranno più collocate scuole. Questo significa privare il centro storico di una serie di servizi ulteriori che potrebbero riversarsi nel centro storico perché una comunità che non è animata dalle scuole non può riversare anche consumo che non sia solo quello di alcol nelle vie della cosiddetta movida. Allora questo ci preoccupa perché significa che questa città è destinata soprattutto nel centro storico e non solo ad essere un luogo senza anima.